Musica Una vesta privata dei pizzino si accabbà da male e rinnotte. Un pizzino dei 30 anni, Gianluca Dalu, verto, in una domanda di Montelongo, in Sacaletta, di Siniscola. Da questa indagine spare chi, procosare del pacco conto, un pizzino a Corfio, a Sischina, che in una lippuzza di cucina a Gianluca Dalu, fu in desicche e piccando desicche, infatti, s'arma. A Dalu, a Barrao Cosciente, l'hanno soccorso diretto, dai diretto però a Tabisau, che non si intende spruzzasano in casa. In principio, l'hanno ricoverato in Terranova, purtis che l'hanno piccao a Tattari, o l'hanno operato che in urgenzia. Come, er grave. A sull'occuso, un suprio soscara benire desa compagnia desini scola, che diretto hanno cominciato a cartorare sull'occu, prochercare sull'ipuzzo, e firmao e porrogao una decina delle persone s'presentes a Savesta. Fi presente vinse a su PM desu Tribunale dei Nuguri, reno satta. Ma, sor militare, s'an'arrestau belle che diretto, a Manzano, per i chi è l'afferto a Dalu. Daniele Mura, 22 annoso. Un'acchida vacca e tassa vizilia, desu prima adobiu desa coalizione de centrodestra, s'as possibilità, derdi una sicunda candidatura de Cristian Solinas a presidente desa regione, fini belle che nuda. Sor batto, ormoro, noi hanno manco partecipato, protestando e che non fissero rispettare il protocollo istituzionale che a Iacelfi, un addobio, convocao dal suo presidente in gare che è in sede del governo. Ma il presidente Solinas invece si è presentato, contento che pasca, proprio in sintesi di questo addobio. È in questo momento che Solinas è stessa in ponte. E in sastra di esimbeniente, si è andato a Sardiana per annunziare la rete di irrigazione nuova in parteolla. Ha inaugurato 15 assessores a Iuso Ponte di Oloè, ha sblocato il fondo esplosistato di un obudio su Castello. Su un'arribata speri, no barbonar da Roma, Matteo Salvini ha dato a eschire da esser pronto a rinunziare a sa Basilicata per rispettare la promessa vatte in capi danni a suo presidente Sardu. Intatta risar forza al desordine, hanno avuto un'operazione anticriminalidade per rispondere a sorfattori graves capitati su una paella che i darfacchi in su corresa cittade. Carabineris, polizia dei Stato, guardia dei Vinanzi e polizia locale sono introsi in azione su centro istorico a Roeskende. Prudecchentuomines hanno avuto perquisiziones e controllo a persone, domos, esercizios commerciales. Estono controlli straordinari uvattopro contrastare sa criminalidade per usannotti in sa zona desandonato che abiti in passau fattor malavittoso. Induno documento di Sudoichide Nadale di Sudoamizi Bintiduor, Federal Bergo Sud Sardigna, Confindustria Sardigna Meridionale, Confesercentes Castello, Associazione BNB de Castello e Susozio Extra, a Iana pediu a su comune de Castello de Picari incusidero un elenco de investimentos che in su valanzo da esa tassa de soggiorno, che a controllo spropone la cana s'abusivismo a fortiare e promuovere a livello internazionale su sito internet CagliariTurismo.it che in obiettivo determinar da esa tante entradas a su sito pro cada nazione. A posto di un anno, su valanzo desimposta, versata da esos turistas, galunestista in preau provavicare tutto su chisi previdiata, promenzorare esa calidade de esos servizios offerto finza al fora de esos meser de stiu e facer a barrare esos turistas in cittade a su manco trerdiese. Su personaggio di una Nugoro che vorzi non bespruso, che mancarisi a morti in su due mesi undichi, su Nugoresu si lamenta na galuoie. Sa biblioteca asata vi prena che obu e rirborta idee, prosa presentazione dei suoi libri zente Nugoresa, un'antologia del conto sissardo de Giovanni e Maria Canu, prototur ziumimiu a Kentannor da Esanaskida. La che fia suvizza Antoni, sa presentazione, che si sta da una vesta, presente ne podesi amico scaror de ziumimiu, che assi ingegneri Bustiano Maccioni, che atta mentau, sa amico, chi in affetto, mentovande, sa vena, ironica e umoristica sua. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie. Grazie.